Io metto due foglioline di mentuccia per decorarlo. Salve ragazzi, oggi vi faccio vedere come faccio la cheesecake a cocco. Vi faccio vedere prima la base, come la faccio. 200 grammi di biscotti secchi e 100 grammi di burro fuso. Adesso metto a frullare i biscotti. Adesso che ho frullato i biscotti, aggiungo il burro. E li giro per bene, perché si devono amalgamare. Adesso che i biscotti si sono amalgamati bene, li metto nella teglia. Io ho foderato già la teglia di 26 centimetri. Questa è la base per la cheesecake a cocco. Adesso la faccio stare 10 minuti in frigo. E mentre faccio il composto per metterlo dentro lo stampo. Ragazzi, come vi ho detto, la base della cheesecake è nel frigo, che deve rimanere 10 minuti. Adesso vi faccio il composto della cheesecake. E iniziamo. Vi dico gli ingredienti. 200 ml di panna già zuccherata. 250 ml di mascarpone. Uno yogurt a cocco. E 200 grammi di cioccolato bianco. Iniziamo a frullare la panna. Adesso uniamo in mascarpone. Dopo di unire il mascarpone, non ci bisogna più le fruste elettriche. Uniamo lo yogurt al cocco. E giriamo sempre. Voi vi state chiedendo, ma il zucchero non ce n'è? No, zucchero non ce n'è va perché c'è il cioccolato bianco, che già è dolce. E unisco anche il cioccolato bianco. Adesso unisco la crema alla base della cheesecake. Adesso questa la metto nel frigo e la faccio di riposare un paio d'ore. Io la cischiero e l'ho uscita del frigorifero. Adesso la impiatto. La trasferisco in un vassoio. E di sopra ci metto della farina di cocco. E poi nel video precedentemente io avevo fatti delle palline di cioccolato, al cocco sempre, e gliele accoggio di sopra. Ragazzi, e questa è la cheesecake a cocco. Adesso io metto due foglioline diamentuccio per decorarlo. Grazie. Grazie. Grazie.